del nostro amico Gian ok, al solito prima di iniziare velocemente il disclaimer per ricordarvi che le informazioni fornite e le opinioni espresse nel corso di questo seminario hanno scopo solamente di carattere generale e non quello di prestare consigli operativi in acquisto o vendita nessuna opinione espressa riguardante investimento e strategia di investimento può considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona e alla sua conoscenza in merito al trading, le informazioni riguardanti le performance passate non costituiscono garanzia di performance futura, i future, i CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva quindi mi raccomando prima di depositare del denaro reale assicuratevi sempre di aver compreso tutti i rischi. Velocemente mi presento per chi ancora non mi conosce, sono un ingegnere, sono membro della SIAT, della società italiana di analisi tecnica, dal 2010 opero come trader indipendente mentre dal 2014 sono consulente tecnico per Trading Facile, una software company che si occupa di programmare, ideare e distribuire trading system automatici applicati poi ai principali mercati finanziari. Mi trovate in generale presente come relatore a tutti i principali eventi italiani del trading, abbiamo appena avuto il Tolexpo a Milano, grandissimo successo, grandissima affluenza di pubblico e di riscontro per quanto riguarda i nostri seminari. approfitto per anticiparvi quello che sarà il prossimo evento che sarà il 27 di novembre se non vado errato a Milano, Palazzo delle Stelline per IT Forum Winter. Quindi anche qui per chi può, per chi ha modo, ci vediamo a Milano il 27 di novembre con IT Forum Winter. Vi ricordo il mio sito che è tradingfacile.eu, vi lascio anche i miei contatti, sotto l'hashtag Trading Facile ci trovate anche sui nostri canali social, abbiamo anche da poco aperto un canale Telegram dove inviamo anche della reportistica e in real time alcuni di quelli che sono i segnali generati dai nostri algoritmi, quindi potete seguire anche un po' per capire il tipo di operatività che facciamo con i nostri trading system e inoltre potete anche seguirci sul canale YouTube dove settimanalmente pubblico il mio report di mercato su indici, valute e principali mercati. Inoltre sul sito trovate anche appunto un blog sulla sezione che ho appena visto, questa qua è il blog di Trading Facile dove trovate tutti gli aggiornamenti anche in tema di eventi gratuiti ma anche quella che è la mia view giornaliera sui principali mercati e quindi anche un modo per rimanere aggiornati, trovate anche tantissime guide magari per chi è neofita oppure sta approcciando da poco al trading, trovate anche tante guide gratuite. Ok, bene Miriam ci dice conto di partecipare, ok Miriam ci vediamo a ditti forum winter a Milano. Ok, quindi l'evento di oggi riguarda appunto andare a un attimino cercare di capire quelle che sono le basi per un corretto approccio al trading, quindi è chiaro che non è pensabile di come dire in un'ora cercare di sciolinare tutti quelli che sono gli argomenti e quindi mandare nel dettaglio su quello che è un corretto approccio al trading in maniera completa. Tuttavia lo scopo qual è? È sempre quello di darvi degli spunti di riflessione, delle idee sul quale riflettere, cercare un attimino di darvi un punto di vista magari diverso, magari anche no, che invece di contro può essere anche un riscontro su delle cose che avete già visto, su degli argomenti che magari volete approfondire e quindi ecco cercare un attimino di darvi un po' la view su quello che è la la mia la mia esperienza e il mio modo di vedere i mercati. Magari anzi mi piace sempre insomma interagire in chat con voi e ecco scambiare insomma poi con voi quelle che sono le idee e soprattutto capire anche quali sono le vostre esperienze. Mari oggi visto che insomma parliamo di corretto approccio al trading e mi piacerebbe capire anche da voi quelli che sono i problemi maggiori che riscontrate quando fate trading oppure le problematiche maggiori che avete riscontrato quando avete iniziato ad approcciarvi al mondo del trading. Quindi per esempio non so se pensate di non avere gli strumenti adeguati se pensate che per come si come si stanno evolvendo insomma i mercati attuali sia appannaggio solo degli istituzionali poter fare profitto non so se vi piace l'analisi tecnica non vi piace pensate che l'analisi tecnica non serva a niente. Magari ecco cercare di capire da voi quelle che sono le criticità maggiori con le quali vi siete scontrati quando insomma ecco avete avete approcciato al mondo del trading capire se non so pensate di non avere gli strumenti giusti pensate che vi servano delle piattaforme delle piattaforme professionali ecco magari insomma chi vuole può lasciare la la propria un commento su quella che è la propria esperienza. Intanto iniziamo e iniziamo da cosa? Iniziamo da quelli che sono le tipologie principali di movimenti che troviamo sui grafici ok? Perché? Perché tendenzialmente quando facciamo trading quando approcciamo al trading quello che vediamo sui grafici è il risultato di movimenti che sono tendenzialmente ciclici ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in generale poi chiaramente andando a esaminare quelli che sono i diversi time frame possiamo identificare tre tipologie principali di movimenti ok? Quindi abbiamo innanzitutto quelli che sono i cicli minori ok? Quindi cicli che sono i cosiddetti di breve termine e che hanno una durata che varia dalle tre alle quattro settimane alcuni oggi come oggi durano anche molto meno tipicamente ci troviamo spesso a che fare anche con dei cicli settimanali ok? E quindi insomma come dire forse rispetto al passato quello che vediamo oggi vediamo anche che si ha a che fare insomma ecco con cicli che durano ancor meno quindi un mercato no più frenetico un mercato che un po' per diversi motivi insomma ne abbiamo parlato anche in altri appuntamenti tende ad essere più efficiente più reattivo e quindi anche quelle che sono le spinte ok? All'interno del mercato tendono insomma anche a esaurirsi a svilupparsi in un lasso di tempo un pochino più breve. Detto ciò oltre insomma andando un po' salendo un po' di time frame oltre i cicli di breve abbiamo anche i cicli di medio termine che sono i cicli che tendenzialmente variano da quattro settimane a sei mesi ok? Poi in ultimo abbiamo i cicli maggiori ok? Detti anche insomma le tendenze primarie che hanno una durata che varia da uno a tre anni e che chiaramente riflettono l'atteggiamento degli investitori verso quello che è il ciclo economico. Personalmente quello che posso dirvi è che per quanto riguarda la mia attività e quindi lo sviluppo insomma anche delle mie strategie di training e poi anche insomma ecco quello che poi è l'offerta di servizi che trovate sul mio sito tendenzialmente cerco di concentrarmi sempre su quelli che sono i cicli di breve e medio termine ok? Perché? Perché l'idea di fondo qual è per un trader, un trader, un piccolo trader come lo sono io insomma ecco come tendenzialmente credo che siate anche voi. L'idea è quella di identificare ok? Una tendenza definita quindi magari un ciclo di medio termine e poi all'interno di questo ciclo cercare di sfruttare insomma no? I ritracciamenti del ciclo principale no? Per andare a rientrare al mercato quindi sfruttando insomma la ciclicità del ciclo di breve. Che cosa significa? Significa che detto in parole povere se su un ciclo di medio identifico ad esempio un'onda rialzista quindi un ciclo ben definito rialzista cos'è che vado a fare? Su un ciclo di breve vado invece a cercare la debolezza del mercato vado a cercare un mercato che nel breve scende cercando di riacquistare la debolezza perché? Perché so che su un ciclo di medio periodo il trend è long ok? Quindi questa è un pochino l'idea di base tendenzialmente io non amo concentrarmi su un ciclo di lungo periodo anche perché oggi come oggi con i mercati attuali insomma per tanti motivi secondo me ha anche anche poco senso a meno che uno non non sia insomma ecco nell'ottica di fare il cassettista e quindi magari di costruire un portafoglio sul lungo periodo ma ecco lì poi come dire si esula dal campo dal trading si va sul campo dell'investment puro a mio avviso quindi detto ciò uno degli obiettivi principali su cui il trader deve cercare di concentrarsi è quello di riuscire innanzitutto a imparare a leggere correttamente un grafico ok? Imparare a leggere correttamente un grafico che cosa significa? Significa in primis riuscire a individuare le aree di supporto e di resistenza ok? So che questo per tanti rappresenta un grosso problema perché perché per chi approccia ai grafici da neofita è difficile leggere correttamente un grafico però purtroppo non si può pensare di fare trading senza avere idea insomma di quelli che sono poi i livelli da monitorare su un grafico e quindi quali sono i livelli di resistenza e supporto significativi perché? Perché sono proprio insomma su questi livelli che tendenzialmente risiedono le migliori occasioni di trading ok? Che cosa significa? Significa che ecco per esempio qui siamo sulla piattaforma qui avete un tool che è preso dalla MQL Suite che vi ricordo ATFX mette a disposizione gratuitamente di tutti coloro che aprono un conto real per esempio qui vedete che di fatto il software in questo caso va a fare questo lavoro per voi quindi anche se non siete esperti no di analisi tecnica però attraverso l'ausilio di opportuni strumenti potete in un qualche modo cercare di sopperire a quella che è insomma una una mancanza che chiaramente per chi approccia ecco si si porta si porta dietro detto questo il discorso qual è che tutti i livelli insomma che vengono rotti e quindi qui per esempio vedete in questo caso se io prendo il livello di magari ecco partiamo da questo livello qui livello di 1 11 e 20 su euro dollaro vedete come il mercato lavora su questo livello e quando il mercato rompe con decisione una determinata area di supporto ok il ritest successivo di questa area ok costituisce occasione per rientrare a mercato chiaramente sfruttando quello che è l'impulso dettato dal movimento precedente ok quindi questa tendenzialmente è un'analisi che chiaramente come tutte le tipologie di analisi non è perfetta perché chiaramente ci saranno sempre quelle occasioni nelle quali il mercato poi farà insomma il contrario di quello che ci si attende però nella maggior parte dei casi a livello statistico è una regola che rimane valida ok perché perché tendenzialmente quando un mercato insomma va a testare un livello un determinato livello quindi sia esso in breakout molti insomma oggi amano insomma dire che il trading in breakout non funziona più e per certi versi è vero che su determinati sottostanti funziona molto meno rispetto agli anni passati però insomma il discorso il discorso qual è che in linea generale è molto difficile che il primo test di un livello sensibile si risolva subito con un breakout di prezzo ok perché perché tendenzialmente il primo test di un livello sensibile ok il mercato lo va sempre a respingere ok sempre per riprendere questo questo target in area 1 11 e 20 ok se il mercato buca al rialzo e fa un movimento significativo ok al di sotto di questo livello tendenzialmente è difficile che poi quando il mercato lo va a ritestare riesce a recuperarlo agevolmente a riportarsi tranquillamente al di sopra di questo livello ok perché perché tendenzialmente le probabilità una volta che un livello è stato rotto sono sempre a favore del fatto che questo livello passi dall'essere supporto all'essere resistenza ok e quindi il mercato se prima insomma era insomma se prima il mercato andava a sostenere ok i prezzi su questi livelli dopo un break significativo e badate bene la parola significativo perché oggi chiaramente i mercati attuali sono pieni di falsi breakout quindi la mia idea qual è la mia idea è quella di attendere un movimento statisticamente significativo ok quindi un qualcosa che sia visibile sul grafico dopodiché insomma andando a ritestare questi livelli chiaramente aumentano le probabilità che questo livello ok assume il ruolo di resistenza piuttosto che venga recuperato agevolmente quindi ci sono tanti motivi per cui vale la pena di imparare ad individuare l'area di supporto e resistenza e quindi chiaramente riuscire ad individuare in anticipo i punti di potenziale l'inversione utilizzare i livelli di supporto e resistenza come target per le operazioni già aperte a mercato e questo vale sia per un'operatività trend following ma anche per un'operatività di tipo min reverting che cosa significa significa quando io vado tendenzialmente ad operare contro quella che è la ehm la tendenza principale magari qui ve lo faccio vedere su un un grafico di ehm di sterlina dollaro e quindi ecco zoomando out vedete che tendenzialmente ehm quando è stato il mese scorso abbiamo fatto un webinar quando il mercato si trovava più o meno su questi livelli qui ok quindi dopo il falso breakout eh si discuteva insomma quale potesse essere il target di questo movimento eh rialzista dettato insomma no conseguente a questo che era il falso breakout e qui se vi ricordate avevo evidenziato quest'area qui ok come un'area ok sulla quale andare a prendere profitto perché tendenzialmente vedete quanto per quanto tempo il mercato aveva ballato su questi livelli prima di fare questo minimo importante in area 1 e 20 e quindi gioco forza se io qua sotto assisto ad un pattern di inversione in questo caso il pattern era il fake out ok mercato che va a fare questo falso breakout e poi fa questa serie di candele di espansione di volatilità marcatamente rialziste che mi danno idea insomma che il mercato sia pronto ad invertire avevo dato in quest'ottica proprio questo target di prezzo in area 1 e 25 come area di target perché perché quanto meno in una prima fase è veramente improbabile che il mercato pure alle prese con un forte rally vada ad estendere fin da subito il movimento di prezzo oltre un livello così significativo in una prima fase è molto più probabile che il mercato vada a ritracciare come effettivamente poi ha fatto e solo in un secondo momento abbia la forza di rompere al rialzo livelli statisticamente significativi ok poi vedete qui è chiaro che se il trend è forte come in questo caso il mercato andrà a ricomprare ritracciamenti non qua sotto quindi al livello del minimo più basso ma su aree di ex resistenza divenute supporto posizionate più in basso più in alto scusate in questo caso area 1 21 e 8 qui lo vedete questo modello di tipo testa e spalle rovesciato questa rappresenta un'area ok dove il mercato ha accumulato precisamente questo range ok e quindi è chiaro che dopo un break di questo tipo io qui già ok nel caso insomma di scenario abbastanza delineato come poteva essere per stellina dollaro ho già individuato il primo target della mia operazione long che è dettata da questo impulso insomma partito dal falso breakout dopodiché è chiaro che su questi livelli livelli più alti so già dove andare a cercare dei livelli di potenziale riacquisto cancello un pochino di disegno al solito se avete dei dubbi vado troppo veloce scrivetemi scrivetemi in chat abbiamo tantissime cose da da vedere quindi magari cerco anche un attimino di andare un pochino più veloce dopodiché è chiaro che cosa passaggio successivo che per stabilire la valenza di supporti e resistenze tendenzialmente io cos'è che vado a guardare vado a guardare uno il time frame di riferimento due la dinamica di prezzo ok per quanto riguarda il time frame di riferimento allora io o ho a disposizione un tool di strumenti come per esempio vedete qui con con la mql suite che mi aiuta già con dei time frame predefiniti a cercare insomma delle aree di supporto e resistenza e quindi già il software elabora i dati del mercato e mi aiuta ad identificare quelle che possono essere vedete qui delle zone in in quali andare a cercare dei trend long piuttosto che short oppure delle zone all'interno delle quali non mi conviene tradare e quindi in un qualche modo vado a agevolare la mia operatività però tendenzialmente per chi come me insomma ha imparato a leggere i grafici quando ancora sfortunatamente la mql suite non c'era io quello che ho fatto meglio la mia esperienza mi ha portato a cercare la la validazione di supporti e resistenze su time frame che fossero almeno orari quindi prima cosa ok e poi per cercare seconda cosa per cercare un po di ripulire quello che era il rumore insomma no con il quale insomma abbiamo a che fare oggi perché sappiamo che i mercati attuali sono frenetici insomma abbiamo tanti tanti spike insomma tanti movimenti che sono statisticamente poco significativi io quello che faccio insomma è quello di andare a cercare un grafico a linee quindi qui vedete dalla piattaforma mt4 si va a switchare da un grafico a candele giapponesi si passa su un grafico a linee che è un grafico che tendenzialmente mostra le chiusure ok quindi mostra solo le chiusure e quindi io è qui che vado a tracciare i miei livelli sia statici quindi supporti e resistenze statici ma anche trend line e quindi supporti e resistenze di tipo dinamico ok e quindi questo è un consiglio che vi do focalizza prima di focalizzarvi insomma sull'andamento del grafico a candele provate a fare questo esercizio mettete un grafico a linea un grafico che vi fa vedere soltanto le chiusure e noterete insomma come già dalle prime volte la visione del grafico sarà una visione più chiara più pulita che quindi vi farà comprendere meglio quello che è l'equilibrio delle forze in gioco detto questo è chiaro che bisogna sempre osservare il comportamento oggettivo del mercato e regolarsi di conseguenza questo che cosa significa significa che se insomma mi aspetto che su un determinato punto il mercato insomma possa ritracciare ma invece la dinamica di prezzo che mi viene mostrata è una dinamica insomma caratterizzata da un mercato che vuol correre da un mercato insomma che continua ad aggiornare i prezzi non devo mai andare a mettermi contro il mercato ma devo sempre in qualche modo cercare di seguire quello che è l'andamento del prezzo quindi chiaramente monitorare la struttura del mercato e tendenzialmente come dire comportarmi di conseguenza ok quindi detto questo uno dei migliori strumenti a disposizione è l'analisi statistica pregressa dei prezzi ok che cosa significa significa che se io vado a vedere quello che il grafico magari spostiamoci su un time frame almeno a quattro ore e l'abbiamo visto prima tendenzialmente il mercato anche se insomma queste aree di supporto resistenza sono aree che il mercato magari non vede ok da molto tempo dobbiamo sapere che il mercato tende sempre a rispettare ok quella che è stata la dinamica dei prezzi passata che cosa significa significa che se io per esempio rimanendo su sterlina dollaro vado a concentrarmi su quanto accaduto a marzo io cos'è che a marzo vedo vedo un livello di prezzo significativo in area 1 29 90 quindi intorno ad area 1 e 30 perché perché se vado a vedere quelli che sono stati i movimenti di swing guardate quante volte il mercato ha ballato intorno ad area 1 e 30 ok quindi è chiaro che anche se questo era un supporto insomma che il mercato testava a marzo se io adesso mi riposiziono su quelli che sono i livelli attuali ok vedete che il mercato no qui siamo su area 1 e 25 chiaramente il mercato ha aggiornato ma se io vado a vedere dove si è fermato l'ultimo impulso rialzista guardate qua dove si è fermato il mercato non più tardi cos'è qui sarà stato qualche uno o due sessioni fa proprio in area 1 e 30 ok quindi l'identificazione dei supporti e di resistenza sulla base di quella che è l'analisi statistica dei prezzi è un qualcosa di fondamentale ok allora vediamo un po' claudio ci chiede le ombre delle candele giapponesi non vengono prese in considerazione guarda claudio tendenzialmente non è che non vengono prese in considerazione però il discorso qual è che tendenzialmente per lo meno parlo per quella che è la mia esperienza e per quella che è la mia operatività tendenzialmente per me quello che conta con maggior peso non è tanto il massimo il minimo quanto piuttosto i livelli di apertura e di chiusura perché perché nei mercati attuali i mercati sappiamo che sono caratterizzati da tanto rumore di fondo sono caratterizzati da degli spike che poi il mercato va a riassorbire sono caratterizzati da movimenti erratici quindi per quanto riguarda l'elaborazione dei setup vado a vedere in primis quello che è il rapporto tra apertura e chiusura perché perché tendenzialmente cos'è che dobbiamo sapere che in chiusura anche se nel corso della sessione ci possono essere insomma dei movimenti spot di movimenti erratici insomma dei movimenti poco inclini per tutte le ragioni che vogliamo tweet di trump tutto quello che volete manipolazione dei mercati però in chiusura tendenzialmente il prezzo riflette sempre quello che è l'atteggiamento degli investitori verso quel sottostante in quel determinato momento ok è per questo che vi dico concentratevi in primis sulle chiusure anzi tendenzialmente eh quello che faccio insomma l'esercizio che faccio eh sulle shadow è proprio dal lato opposto ok ossia cercare di andare a dei cercare di andare a cercare dei falsi movimenti quindi dei falsi cioè dei massimi che però poi in chiusura di sessione vengono riassorbiti e quindi magari delle inversioni di prezzo in chiusura di sessioni che mi danno idea di come effettivamente quel movimento fosse un movimento erratico ok quindi vanno prese in considerazione ma ripeto in un'ottica un pochino diversa rispetto a a quella che potrebbe essere insomma una visione tradizionale dei mercati ok allora perdone filippo ma allora le trend line su un grafico a candele giapponesi dovrebbero essere tracciate solo sulla chiusura e non sulle ombre esatto laura infatti sempre per quel che mi riguarda io non amo tracciare le trend line passanti per aree estreme di prezzo quanto piuttosto traccio le trend line sulle prima di tutto passanti per le chiusure ma poi altro errore che tendenzialmente vedo fare da tanti trader è quello di tracciare dei livelli dinamici che passano magari soltanto per due punti cioè come fosse in questo caso no io traccio una trend line che passa per due punti dal mio punto di vista tracciare una trend line che passa per due punti soltanto e che passa per aree estreme di prezzo ok è un qualcosa che ha veramente poco senso perché perché è questa secondo voi la trend line che mi dà l'idea della di come si sta evolvendo la struttura dei prezzi su questo sottostante no io qui cos'è che vedo se io depuro il grafico da tutti questi spike e quindi mi porto su un grafico a chiusure tendenzialmente la linea che identifica ok la mia resistenza di tipo dinamico è questa qua cioè innanzitutto è una linea che passa per le chiusure ma poi all'interno delle chiusure io cos'è che vado a cercare vado a cercare quei livelli di prezzo che sono stati toccati con maggior frequenza quindi cercare di ponderare ok la trend line di prezzo ok a poco senso una trend line che passa per un minimo o un massimo ok mentre ha molto più senso una trend line che incrocia diversi massimi ok poi che è chiaro che specie nei mercati attuali non possiamo attenderci questo lo dico sempre delle trend line pulite dei pattern di prezzo puliti quindi delle strutture che sono le stesse che abbiamo studiato sui libri di analisi tecnica di 10 o 20 anni fa oggi il mercato chiaramente non è più di quel tipo e quindi quello che dobbiamo andare a fare è sempre una media ok sempre una media su quello che è appunto l'evoluzione di l'evoluzione del prezzo su un dato mercato ok per lo stesso motivo qui siamo sul quattro ore di di sterlina dollaro se io dovessi andare a tracciare un un supporto dinamico tendenzialmente è questa la linea che sceglierei ok è questa linea qui che sceglierei ok quindi tendenzialmente il discorso qual è che qui a livello operativo cerchiamo di tradurlo in termini pratici è un mercato ora come ora che sta salendo ok quindi io qui che faccio tendenzialmente sul ritracciamento posso attendermi una ripresa del trend long ok ora cos'è che posso valutare tracciata questa trend line passante per i supporti se il mercato e qui mi aiuto con la penna dovesse andare a ritestare ok livelli più bassi quindi io qui non non andrei mai a vendere i breakout ok non entrerei mai short su questo breakout quanto piuttosto a seguito di un aggiornamento dei minimi di breve andrei a cercarmi un pattern per rientrare long ok allora cerchiamo di ritornare sul grafico e quindi vedete che qui tornando sul grafico a candele è evidente come anche in questo caso abbiamo avuto a che fare con uno spike con un falso breakout a ribasso che il mercato invece di contro sta pian piano riassorbendo ok e quindi l'esempio grafico lo saltiamo perché in pratica l'abbiamo già visto e quindi quello che vi dicevo prima quando il mercato affronta il test di un livello significativo le probabilità sono molto più spesso a favore di un'inversione di tendenza ok piuttosto che di un breakout significativo perlomeno in una prima fase ok anche qui cos'è che si fa per andare a valutare l'affidabilità delle aree di supporto e resistenza numero di volte che il mercato ha battuto un determinato livello quindi numero di volte che il mercato ha toccato quindi non le aree estreme e poi numero di volte che il mercato ha chiuso su un determinato livello ok mai tracciare questi livelli sulle aree estreme di prezzo quanto piuttosto per i bordi delle aree di congestione ok l'abbiamo visto ciò che prima era supporto ora diventa resistenza per questo motivo per un tipo di operatività insomma prettamente discrezionale quindi anche per darvi insomma ecco un'infarinata su quello che dovreste andare a cercare sui grafici tendenzialmente vi sconsiglio di andare ad operare in breakout ok quanto piuttosto cercate insomma di rientrare sui ritracciamenti susseguenti a un breakout significativo ok vado un pochino di corsa ma siamo andati non lunghi di più tendenzialmente là questo per quanto riguarda il concetto di supporto e resistenza per quanto riguarda gli indicatori tecnici cerchiamo di dare delle linee guida tendenzialmente abbiamo tre tipi di indicatori abbiamo indicatori di sentiment ok tendenzialmente il vix e il vustox alcuni di voi conoscono vix e vustox sapete di cosa si tratta su che cosa sono basati questi indicatori allora bravissimo federico vedo che hai studiato sono indicatori di volatilità anche se direi indicatori di volatilità non è propriamente corretto perché bisogna distinguere in questo caso tra volatilità storica e volatilità implicita vix e vustox sono indicatori di volatilità implicita perché alla vincenzo ci dice il vix viene detto indice della paura esatto perché perché tendenzialmente sono degli indici che vanno insomma a rappresentare graficamente quello che è insomma la tendenza degli operatori sul mercato delle opzioni ok e quindi si va a apprezzare la volatilità implicita e quindi attraverso insomma un'elaborazione dei dati riguardanti quello che è il mercato delle opzioni sia put che chiaramente che call si vanno a cercare le tendenze del mercato perché perché il vix è uno strumento che è inversamente legato agli indici azionari ok per esempio il vstox è applicabile sia all'euro stocks che al dax e quindi tendenzialmente se vediamo un vstox che sale quindi una volatilità in salita dovremmo attenderci una discesa del mercato azionario il vix è l'analogo del vstox ma si applica ai mercati americani quindi all'S&P 500, Nasdaq e Dow Jones e anche qui vale lo stesso discorso insomma tendenzialmente viene monitorato perché innalzamenti dei livelli di volatilità sono tendenzialmente indice di ribasso del mercato azionario e quindi anche qui vale la pena monitorare dopodiché seconda categoria abbiamo gli indicatori di flussi di fondo di flondini e qui troviamo il commitment of traders dove appunto trovate anche l'open interest quindi qui vi li ho segnati entrambi ma in realtà l'open interest lo trovate all'interno del commitment of traders anche qui cos'è il commitment of traders è un report settimanale che è redatto dalla commodity futures trading commission quindi qui parliamo dei mercati americani tendenzialmente e quindi questo COT riporta i posizionamenti degli operatori sui principali future americani quindi commodity ma anche future finanziari sapete che insomma il mercato delle valute viene negoziato anche al CBOE al CMA e quindi dove troviamo i future sulla sterline future sull'euro quindi non solo indicazioni per quanto riguarda le commodities e il mercato azionario ma anche per quanto riguarda il mercato valutario e quindi anche qui si possono analizzare bisogna imparare a leggere questi report però si possono trovare indicazioni sul posizionamento degli operatori sia gli istituzionali ma anche operatori che non appartengono alla filiera degli istituzionali vi ho messo anche le posizioni nette e corte perché questo non tutti lo sanno ma riferito al mercato italiano la CONSOB ogni giorno va a pubblicare quelle che sono le comunicazioni sulle posizioni nette e corte detenute dagli investitori istituzionali sui titoli azionari italiani l'unico report affidabile che trovate è quello che è redatto dalla CONSOB e lo trovate sul sito internet della CONSOB e quindi su questo report della CONSOB su questo PNC che cos'è che trovate? trovate tutte le posizioni short quindi le posizioni, le vendite allo scoperto aperte dagli investitori istituzionali su tutti i titoli ok? trovate tutte le posizioni short? no, trovate solamente quelle che sono di entità pari o superiore almeno allo 0,5% del capitale della società quotata ok? quindi tutte le più grandi posizioni ribassiste ok? aperte dagli investitori istituzionali le trovate sul sito della CONSOB perché se una società di asset management o comunque un investitore istituzionale si posiziona a ribasso quindi vende allo scoperto ok? una quantità pari allo 0,5% del capitale è tenuto a denunciare la cosa alla CONSOB e la CONSOB rende pubblico attraverso questo report il fatto che l'investitore X ha aperto uno short pari almeno allo 0,5% sul titolo Y ok, allora Claudio ci chiede la registrazione del webinar allora datemi qualche giorno tempo di caricarla sul mio canale YouTube dopodiché se vi registrate insomma al canale riceverete l'alert non appena sarà pubblicato ok? quindi questo per quanto riguarda il mercato italiano poi chiaramente ci sono gli indicatori quelli che utilizziamo con maggior frequenza nell'ambito dell'operatività giornaliera che sono gli indicatori di struttura del mercato quindi cicli, ampiezza, forza del trend all'interno di questo pacchetto troviamo indicatori di tendenza medie mobili ADX MACD indicatori di momentum ok? ROC RSI stocastico ok? che sono insomma gli indicatori dove tendenzialmente per quanto riguarda ROC RSI si va a cercare la tendenza del mercato quindi tendenzialmente chi mi conosce sa che sono un fan del ROC del rate of change che è un indicatore insomma che amo particolarmente perché riesce a darmi insomma le indicazioni che mi servono per andare a cercare di capire quella che è la tendenza prevalente dopodiché abbiamo gli indicatori di volatilità ok? come l'ATR e le bande di Bollinger per quanto riguarda gli indicatori vanno possono essere anche distinti in due ulteriori categorie e le dobbiamo conoscere ok? quindi gli indicatori lagging quindi indicatori che tendono a segnalare un'inversione di trend soltanto dopo che essa si è verificata come le medie mobili la DX MACD Parabolixar e il super trend anche qui sapete che insomma quanto io spinga per l'utilizzo del super trend perché a mio avviso è uno degli indicatori lagging più efficaci e tra l'altro ho fatto solo pochi giorni fa un webinar per parlare insomma dell'importanza del super trend e dell'importanza di saperlo applicare correttamente perché? perché il super trend essendo un indicatore lagging io non lo posso andare ad applicare al grafico a 5 minuti o meglio ci saranno determinate situazioni determinati sottostanti in cui il super trend può anche funzionare su time frame brevi ma tendenzialmente un indicatore lagging applicato su un time frame di brevissimo termine quale svantaggio ha? ha lo svantaggio che magari andrà a segnalarmi una tendenza quando? quando la stessa sarà già terminata perché se io cerco una tendenza sul 5 minuti cerco una tendenza intraday ok? e quindi sarà un indicatore che magari mi segnalerà un'inversione soltanto a a trend finito mentre invece il discorso qual è? che applicare il super trend su grafici dal 4 ore in su è una cosa ben diversa perché in quel caso il trend sul 4 ore è chiaramente un trend di più lungo periodo anche se il super trend me lo segnala con un pochino di ritardo ma comunque avrò ancora il modo di sfruttare quella tendenza a livello operativo detto proprio in due parole indicatori lagging indicatori leading abbiamo RSI e stocastico anche per insomma citarne alcuni dei più famosi indicatori leading al contrario segnalano con anticipo l'inversione del prezzo o meglio un'area di possibile inversione del prezzo anche qui ho fatto già dei webinar dedicati occhio perché perché con gli indicatori leading è più facile avere a che fare con falsi segnali ok e quindi mi raccomando abbinate sempre le aree di ipercomprato a ed ipervenduto a insomma altre analisi altre tipologie di analisi o meglio ve la butto là un'idea quale potrebbe essere potrebbe essere di cercare non so se avete magari che ne so con il rock ok avete stabilito che la tendenza di un determinato mercato è long ok allora su un grafico intraday 5 minuti 15 minuti 30 minuti cos'è che posso fare con lo stocastico vado a cercarmi delle aree di ipervenduto ok quindi ipervenduto di breve mercato che è sceso ma che di medio periodo è un mercato positivo e quindi vado a cercare di comprare le discese non cercare di vendere le salite ok quindi anche qui gli oscillatori più comuni stocastico rsi commodity channel index average directional movement index la dx e il williams percent range quindi tendenzialmente quale dovrebbe essere un setup operativo innanzitutto identificare il trend con un metodo quanto più possibile oggettivo questo magari l'abbiamo visto anche nella volta scorsa quando vi ho parlato dell'ultimo trading system che abbiamo implementato sul mercato forex quindi avvalersi di uno strumento come il rock ok per identificare la tendenza ok quindi avere uno strumento che in un qualche modo mi va ad analizzare ok mi va a mediare quella che è l'andamento dei prezzi e quindi mi dà un'indicazione ora adesso non ce l'ho qui che ho l'emql suite però insomma tendenzialmente cercare di avere a disposizione degli strumenti per identificare il trend ciò non significa che quando il rock o l'rsi oltrepassa la linea dello zero io entro a mercato long e quando invece il rock oltrepassa al ribasso la linea dello zero io entro short no perché all'interno del trend ok anche come in questo caso ammesso insomma di aver identificato una tendenza prevalente come in questo caso una tendenza long io non è che vado a comprare qua sopra ok sui massimi ok io quello che devo fare devo cercare di individuare ok queste aree di scarico tra virgolette degli eccessi quindi cercare questi livelli dove il mercato va a riassorbire ok l'eccesso del rialzo per rientrare a mercato long ok e quindi questo che cosa significa significa che io come in questo caso osservo una barra di espansione di volatilità come questa che vedete qui qui ne vedete tante vedete che il mercato vi fa vi dà evidenza insomma di rialzo con queste barre ad ampio range ok queste barre che sono come distanza tra apertura e chiusura torniamo al concetto di partenza non distanza tra apertura e massimo ma apertura e chiusura vedete che sono di range superiore rispetto alla media del mercato ok e quindi quando vedete queste barre ad ampio range non è mai una buona idea andare ad operare in breakout sul massimo di queste barre ok ma piuttosto cos'è che conviene fare conviene cercare di individuare livelli mediani di queste barre tendenzialmente tendenzialmente a partire dal 30 al 70 80 per cento di questo range ok perché perché anche qui a livello statistico la tendenza del mercato qual è è quella di andare a difendere queste aree ok perlomeno in una prima fase questo che cosa significa significa che tendenzialmente quando il mercato vi fa un break di volatilità di questo tipo con gli indici ancor più che sul forex tendenzialmente è improbabile che sul primo ritracciamento il mercato vada a ritracciare completamente il range ok lo potrà fare ma magari in una seconda fase tendenzialmente in una prima fase il mercato va a difendere le aree mediane i livelli mediani di queste barre ad alto range e quindi quando vedete queste candele di espansione di volatilità l'idea qual è di piazzare degli ordini limit ok sui livelli mediani per poter fare due cose la prima è cercare di rientrare nella direzione di una tendenza definita ok la seconda è quella di comprare ad un prezzo di carico più basso quindi tendenzialmente abbassare il prezzo di carico e la terza diretta conseguenza se io chiaramente entro long qui il mio stop sarà qua sotto al di sotto insomma di quest'area di supporto se io entro qua sopra sul break dei massimi la distanza tra ingresso e stop è questa qui se invece io attendo un ritracciamento del prezzo la mia distanza tra ingresso e stop è questa qui e quindi io di fatto sono andato a dimezzare il rischio e alla lunga sul totale di tutte le operazioni che andate ad aprire da qui alla fine dell'anno voi noterete che abbassare ogni volta il prezzo di carico e assumersi ogni volta cioè tagliare il rischio è una cosa che alla lunga fa la differenza ok allora Laura ci dice lo stocastico è un indicatore molto ingannevole perché i libri tendono a spiegare il concetto anche se l'indicatore è in un iper ultra iper comodo significa che è un'inversione cosa che non corrisponde mai infatti Laura allora non è che l'indicatore non corrisponde mai personalmente il discorso qual è se io vado a vedere che cosa succede ad un indicatore di iper comprato ok se lo applico per esempio ai mercati americani ok i mercati americani che insomma al di là del movimento passato di dicembre scorso insomma quella quella sciacquata che c'è stata ma tendenzialmente è un mercato che negli ultimi dieci anni è stato quasi sempre in iper venduto in iper sì in iper venduto quindi quindi tendenzialmente è chiaro che se io cerco di sciortare un mercato solo perché il mercato è salito troppo solo perché il mercato è salito e è sui massimi quella è una strategia che mi porterà alla rovina questo è chiaro quello che sto dicendo è tendenzialmente di sfruttare l'indicatore dello stocastico in maniera opposta nell'arco di una salita ok magari puliamo un pochino il grafico nell'arco di una salita di questo tipo magari provo anche a no si ce l'ho ok algo candles cerchiamolo qua sotto lo andiamo a mettere facciamo un esempio in real time allora cerchiamo lo stocastico vediamo un po' se lo troviamo oscillatori stocastico oscillatore eccolo qua ammettiamo di metterlo a cinque periodi è chiaro che se io qui vado a cercare le situazioni di ipercomprato ok per shortare il mercato è chiaro che alla lunga io mi faccio male su questo mercato ma se invece per me lo stocastico è un filtro ok solamente per cercare occasioni di ipervenduto su un mercato così ok e quindi io qui dallo stocastico non vado a prendere segnali di acquisto vendita ma vado solamente a prendere i segnali concordi con il trend prevalente questa è la logica ok quindi questo che cosa significa significa imparare a riconoscere le tendenze predefinite e poi a quel punto io con lo stocastico non vado a cercarmi tutti i segnali in acquisto vendita ma solo quelli che sono concordi con la direzione principale o meglio su una tendenza rialzista io quello che voglio fare è solamente comprare le discese non vendere le salite ok perché perché la forza della discesa sarà sempre inferiore a quella che è la forza della salita ok non so se riesco a a spiegare il il concetto e quindi è chiaro che perché dobbiamo conoscere la logica sulla quale si basano gli indicatori perché perché dobbiamo imparare ad applicarli nella maniera corretta ok quindi detto questo è chiaro e qui poi mi fermo perché siamo andati anche oltre a a quello che è insomma il tempo a disposizione tendenzialmente il primo passo da fare al di là di tutto qual è è sempre andare a cercare di contestualizzare i movimenti del mercato quindi innanzitutto capire se ci troviamo su una fase di espansione di volatilità piuttosto che su una fase di compressione di volatilità l'abbiamo visto prima per quanto riguarda il qui siamo sempre su sterlina dollaro se io vedo delle candele di questo tipo ok tendenzialmente se vado a rapportare il range di questa candela con il range dell'ATR ok qui siamo a 30 minuti ok e quindi ad esempio cos'è che di cos'è che mi accorgo mi accorgo che il range di questa candela ok che è un range di quasi 100 pip è molto maggiore rispetto a quello che è il range medio dato dall'ATR che di fatto vedete qui è solamente 40 pip quindi se io a fronte di un range dato dall'ATR di 40 pip vedo una candela che è 3 volte quindi un 3 per di volatilità rispetto al valore dato dall'ATR è chiaro che ho a che fare con una candela statisticamente significativa e quindi che cosa succederà? che automaticamente questa candela diventa il mio benchmark diventa una candela che può darmi indicazioni di un setup come l'abbiamo visto prima cercare di entrare in breakout qua sopra? no cercare un ritracciamento di prezzo perché il mercato è salito troppo? no cercare piuttosto una fase di scarico cercare una fase nella quale il mercato va a decomprimere ok il movimento iniziale e cercare poi di riacquistare qua sotto sfruttando una ripresa di quella che è il trend prevalente ok questa è la logica sulla quale dovreste abituarvi insomma a fare analisi di mercato ok io capisco per me io non lo nascondo all'inizio è stato molto complicato capire insomma che bisognava comprare un mercato che scende oppure bisognava vendere un mercato che sale perché perché non capivo la logica di fondo ok non capivo la struttura di fondo del mercato però tendenzialmente andare ad operare su queste situazioni specie per un trader discrezionale sono insomma ecco quelle situazioni nelle quali rischiate paradossalmente di farvi meno male ok quindi detto questo io scusatemi sono come dire costretto a chiudervi perché siamo veramente in chiusura siamo andati veramente fuori dal mercato io mi scuso vedo anche tante domande in chat vedo anche delle persone insomma che magari non hanno non sono riuscite a comprendere il tutto il ragionamento fatto e io mi scuso perché effettivamente è impensabile pensare in un'ora di andare a fare una panoramica di questo tipo magari nei prossimi appuntamenti cercherò di come dire andare a compartimentare un po' di più i temi e cercare di approfondire magari di volta in volta soltanto determinati argomenti questa voleva essere un'infarinata generale magari per chi insomma ecco è neofita sta approcciando al mercato solamente ora e quindi ecco cercare di darvi una infarinata generale però capisco che insomma così di prima chitto possa generare più confusione che altro detto questo vi anticipo che come vi ho già detto prima avremo altri webinar nel corso del prossimo mese approfitto anche per dirvi che in virtù della partnership che abbiamo con ATFX abbiamo la possibilità di fornirvi una licenza lifetime del nostro trading system ulisse trading system che abbiamo realizzato per quanto riguarda il mercato forex e quindi è una licenza lifetime che potete acquistare insomma ad un costo di 799 euro oppure in alternativa per tutti coloro che apriranno un conto real con ATFX c'è la possibilità di offrirvi gratuitamente una licenza lifetime perché ATFX va a pagare per voi il costo della licenza e quindi per qualsiasi informazione potete o contattare me all'indirizzo che vi ho lasciato all'inizio ve lo rimetto la mia mail è Filippo Chioccio la trading facile oppure potete contattare il broker ATFX anche qui trovate tutti i recapiti o sul sito oppure in chat ve li ho messi all'inizio e potete ricevere maggiori informazioni e quindi cercare anche di capire come usufruire di questa ma anche di altre promozioni perché ATFX sta facendo davvero uno sforzo importante per offrire il miglior servizio a tutti i clienti italiani tant'è che oltre insomma a uno dei nostri trading system gratuiti vi offre anche una VPS gratuita per far girare appunto H24 tutti i vostri sistemi incluso il sistema Ulisse senza appunto la necessità di avere un pc acceso quindi un vantaggio non da poco tenuto conto di quanto costa poi effettivamente avere un abbonamento mensile ad un servizio VPS e quindi ripeto insomma davvero uno sforzo notevole quindi per qualsiasi informazione ripeto potete contattare o me o atfx bene siamo davvero in chiusura io ringrazio tutti coloro che hanno deciso di passare quest'ora con noi spero che il webinar sia stato interessante vi do l'appuntamento ai prossimi appuntamenti quindi ringrazio Laura ringrazio Claudio Federico Miriam Mirko Vincenzo mi raccomando iscrivetevi ai prossimi webinar e ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con atfx e con i webinar gratuiti di trading facile da parte di Filippo Giannini vi auguro una buona serata e buon trading ringrazio